Musica E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Stef e questo gioco è una PewDiePie Simulator E questo oggi ragazzi ebbene si giocheremo a questo gioco per cellulare Uscito oggi stesso noi lo stavamo aspettando da tantissimo Esatto Perché è molto simile a Youtubers Life però ovviamente dedicato a PewDiePie Ovvero lo youtuber più famoso al mondo Esattamente come potete vedere già dall'immagine ragazzi avremo a disposizione non so che cosa Credo che sarà proprio un gioco dove succederà di tutto Anche secondo me conoscendo poi i video di PewDiePie mi aspetto davvero il peggio Esattamente iniziamo secondo me sarà davvero carinissimo Ovviamente ragazzi è una potenziale serie quindi in base a likes, le views, i commenti, le solite cose Decideremo se farci una vera e propria serie Per ora ci limitiamo a provarlo e spero che sarà davvero carinissimo Io non ho un'idea di cosa aspettarmi perché l'abbiamo visto scaricato e non abbiamo ancora provato nulla Ehi bella raga il mio nome è PewDiePie che ovviamente lo sappiamo tutti Certo questi siamo noi Che bel post dove registrare Vabbè un po' l'inizio di qualsiasi youtuber Benvenuto a PewDiePieTuber Simulator Bravissimo Giriamo un video subito Così dai 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 Prima di tutto ti serve una videocamera Eccola lì giù Ok Ah dobbiamo comprarla nel negozio Ok qui qui c'è roba forte per la tua stanza E beh tutto qua Ok Ecco la sezione oggetti convenienti che ti mostra quello che è disponibile in base alle visualizzazioni che ho ottenuto finora Buona sapersi Ok Si dovrebbe chiamare roba per gente povera in realtà Ecco qua la sua ironia terribile Ma oggetti convenienti suonano Esatto Stiamo andando a risparmio volontariamente Ci sto offendendo Più di poi ci sto offendendo Ti vorrei far notare questa cosa Stai dicendo che siamo poveri Stai dicendo che siamo poveri Cosa vogliamo fare? Allora Come vediamo la tendenza scusami Qui ci sono le sezioni Questa è di gaming E poi c'è una casetta Questo tipo animali è qualcosa di horror E l'altro musica e make up Musica e make up No andiamo di gaming giustamente Ti posso rinominare? Ah ok Ah possiamo anche dare il titolo al nostro video Perfetto Perfetto Lo chiamiamo I nachos più buoni del mondo Tanto ho capito che riguarda qualcosa da mangiare Dato che parla di nachos Ok Ok Ah ed è andato Perfetto Ok via Stiamo già registrando Queste sono le nostre visualizzazioni Credo quindi Generazione 33 Quindi noi clicchiamo così È molto particolare E ottieni 3 iscritti Però vedi le visualizzazioni erano 33 Ok 33 visualizzazioni 3 iscritti Perfetto Esattamente Ora perché non ti rechi al negozio per vedere cosa puoi acquistare? Ok ma credo Una scatolone Wow sei poverissimo Sembra proprio che tu possa permetterti solo questa scatola di cartone Ma ehi bisogna pur cominciare da qualche parte Sì ma non da una scatola di cartone Dai Allora sto notando che più di paio è davvero molto antipatico Ora ci siamo Ora ci siamo Sono apparsi più Per mettere altre stanze nella nostra postazione È fantastico È fantastico 10 verdoni Verdoni li chiama Perfetto Chissà come si guadineranno se è solo shopando O se c'è un modo di farli anche in modo normale Ancora non lo so Davvero non ne ho idea Gira video Possiamo fare un video sullo sport Un video relativi for you and me Shaping your sea Allora Allora Quale ti ispira? A me ispira o questo O questo Io direi quello dai Questo? Per cambiare un po' un genere di video che non abbiamo mai fatto Ehm Chimica e musica La chimica musicale No era geniale chimica e musica Ti prego Allora Queste sono le nostre missioni Missioni epiche Perfetto Perfetto Vediamo cosa abbiamo Raggiungi il livello Unicitì a me missioni epiche per ottenere un bottino da urlo Non sarà facile Probabilmente non sarai all'altezza Ma credo in te Vedrai alcune di queste ogni tanto Ma abbiamo anche alcune a fantastiche e missioni epiche In arrivo Perciò Chi se ne Allora Raggiungi il livello 2 Sali di livello una volta Visita 5 stanze Acquista un oggetto di tendenza Aspetta un secondo Sì Mi stai dicendo che possiamo visitare le stanze degli altri giocatori in qualche modo Tipo magari con una lista amici o cose del genere Perché sarebbe epico vedere anche le stanze delle altre persone Perché da quello che ho capito E infatti Sì Con gli amici Da quello che ho capito Guardando qualche immagine del gioco La personalizzazione delle stanze è a dir poco incredibile Cioè ad esempio Voglio fare un piccolo spoiler Ho visto un'immagine di una stanza arredata come se fosse Jurassic Park Ok Con i dinosauri Quindi immaginate tutte le cose che si potranno fare E questo lo preferisco Perché in youtubers life ad esempio Non mi piaceva molto È vero Di non poter arredare come volevamo la nostra postazione Sappiamo che a Ferinichi piace sempre arredare Ovviamente Sono già prontissima Le importa sempre un sacco Ad ogni modo qui Hai un casino di roba da social che puoi fare Ti spiegherò di più In ogni sezione Allora Devi creare un account per accedere al contenuto Perciò dovresti iniziare da quello Ricorda solo di non leggere l'accordo di licenza Specialmente la parte in cui abbiamo tutte le utilizzazioni dei tuoi social media Ti consiglio di saltarla completamente Grazie di non denunciarmi per favore Voglio tenermi stretti i miei verdoni Grazie Ok Sei una persona terribile Imposta nome canale Ah Two players one console Lo lasciamo Two players One console One console Esatto Ok Per disperazione almeno cerchiamo di tenerci il nostro nome Benissimo Conferma Allora quindi in questo modo se i consolini scaricheranno il gioco Potranno cercare il nostro account e vedere la nostra stanza È fantastico Bellissimo È fantastico Credo che qua puoi votare la stanza di una persona Oh bella Ogni settimana abbiamo questi fantastici eventi Dove potrai vincere un mucchio di roba straordinaria Vota le stanze che ti piacciono O quelle che ti sembrano rispettare il tema corrente Salta le stanze che non ti interessano È facile Questa mi piace perché c'è il gattino che dorme Vota cuoricino Aspetta qual è il tema però? Non lo so Eh outer minds Che vuol dire outer minds? Eh fuori dalla mente E siamo nello spazio Mi piace molto Mi piace anche perché c'è il gattino Dagli un cuoricino solo per il gattino Cuoricino Cuoricino Uh Cosa succede? Che succede? Ah la prossima stanza Vedi? Bella questa Questo caliuculus rift indossati Ma mi spieghi una cosa? Sì Cioè com'è possibile che abbiano una stanza così se il gioco è uscito tipo un'ora fa? Com'è possibile? Non lo so però potrebbe voler dire che in poco tempo avremo delle stanze bellissime anche noi O potrebbe voler dire che hanno nerdato come non so che cosa Che magari in altre parti è uscito un po' prima e non si sono più staccati dal gioco No 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 Cosa è com'è la nostra Comunque hai notato che si può cambiare anche lo sfondo Lo sfondo Se vabbè questa sì mi piace mi piace Ma non è a tema Ma nel suo caos è geniale Sì ma non è a tema c'è un dinosauro con l'alletuccia Comunque vedete ragazzi quello che vi dicevo prima sulle personalizzazioni sono davvero epiche La batteria la vorrò Vai avanti 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 vediamo qualche altra casa poi torniamo ai fatti nostri Cuoricino Via Cappo lavoro Hai esagerato con le scatole Questa non è Outer Minds è tutta troppo ordinata non ha capito bene il tema Ok E questa qua è bellina ma non c'entra nulla con il tema Ok credo che comunque quando premiamo X ce ne torniamo a casa nostra Esatto esatto E dovremmo aver fatto la missione vedi Visita 5 stanze riscatta di compensa Riscattiamo subito 5 views e 5 nuovi iscritti Siamo ad otto iscritti Qua dovremmo avere altri 3 iscritti da riscattare perché abbiamo fatto il video Siamo a 50 views e 11 iscritti Allora abbiamo poche scelte No vabbè No questo è Jack Qua ci sono ragazzi un sacco di youtuber esteri È fantastico Allora tra quelle base il più bellino è lui Sì Anzi forse mi faccio biondo No no biondo no grazie Faccio questo allora Ah puoi cambiare Blu Oh carini i capelli blu Ho sempre voluto Hai sempre voluto i capelli blu Esatto 3 iscritti 26 visualizzazioni Ok 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 Dobbiamo continuare a registrare a nastro Allora in questo momento in tendenza ci sono questi 3 Io direi di continuare con chimica e musica perché Ormai è la nostra serie di punta quindi sì direi di continuare Piace tantissimo ai nostri 21 iscritti E noi ci teniamo ai nostri 21 iscritti Cerchiamo di accontentare al meglio ai nostri 21 iscritti Mi sembra giusto Arriva alla finestra 2 1 Bellissima 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 Ritorna alla stanza Livello 2 Quindi l'exp si fa quando compri le cose e le metti nella stanza Perfetto Ricompensa 5 di quei punti celebrali Quelli che avevano miato prima C'era broidi Non mi ricordo più come si chiamano Bravissima E 2 verdoni Perfetto Vediamo a cosa servono questi punti celebroidi Che sono Mi fa paura quell'aquila Aspetta Che tanto ripassa Ok presa Altre 25 views Dicevo Guarda è comparsa qua la sezione Ma non ci credo Sai cosa mi interessa di più della Lamborghini e dei verdoni L'albero della conoscenza Che è un luogo pieno di disgustosi celebroidi in realtà Se noi li clicchiamo riusciamo a leggerli bene Tipo Streaming Trasmetti e ottieni visualizzazioni non girando alcun video Ma non è così uno streaming Però mi piace A me non mi piace Allora è come ti ricordi anche in Youtubers Life avevamo le abilità Da sbloccare E potevamo girare video Tipi di video diversi Quindi immagino che qui sia la stessa cosa Vedi per incrementare le visualizzazioni Per fare streaming Voglio incrementare le visualizzazioni dei video di gaming Ok Del 50% E' buono perché così iniziamo a comprare anche più arredamento Esattamente E spendo altri due punti per fare 10% di visualizzazioni in streaming Perché teoricamente così faccio visualizzazioni nel tempo E credo proprio di sì Da come era scritto credo funzioni Stai diventando velocissimo con l'aquilo Tre verdoni Belli Bello 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 Mi sei piaciuta questa volta Allora mettiamo di nuovo Cioè riscattiamo questo Mettiamo a girare un video di musica Perché in tendenza c'è quello A questo punto riguardiamo il negozio Perché teoricamente abbiamo sbloccato delle cose Queste sono tutte le cose che sblocchiamo Wow 380 views per una palla da basket Le candele 175 per le candele Una piantina Poi La ciotola per l'animaletto Il joystick Questo è un joystick per giocare al pc Sì Sì Una console Immagino I trucchi Ah beh certo Se ti vuoi fare il canale di make up Questa è una torta Buona Nella scrivania è buonissima Cestino pieno di carta Un altro scatolone Proprio nei fascicoli Abbiamo sbloccato Il tavolo E un bel poster Abbiamo sbloccato un sacco di cose comunque Per aver fatto solo il livello 2 Almeno ci ha dato molte Molte decorazioni in più È bellissima Ah quindi se noi andiamo qua Possiamo comprare gli oggetti sbloccati Mentre qua continuiamo ad avere gli oggetti convenienti Che sono semplicemente gli oggetti Che in questo momento Ci possiamo permettere Guarda le views Lo vedi? Sta andando bene No 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 guarda Che succede? Ta Ta Lo streaming Lo streaming Sì Ok 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 Non funziona proprio così lo streaming PewDiePie però eh Però va bene va bene Almeno per noi va benissimo Fare visualizzazioni al tempo Vai Missioni Allora Riscatta Bisogna poi incendere da qualche parte Giusto? Io avrei provato da qualche altra parte Ma chissene Non ci interessa il tuo consiglio Vai via Esatto Quindi adesso la prossima missione Sarà ottenere 5000 visualizzazioni Totali Ok con lo streaming che va Ce la faremo Mentre questa ricompensa 10 views e 10 iscritti Per aver salito di un livello Per essere salito di un livello E si ricarica Tra 11 ore Quindi le missioni Capito dopo che le fai Ok ok interessante Quindi le puoi avere anche di nuovo E poterle completare un'altra volta Perfetto Perfetto Mamma mia 15 nuovi iscritti Yeeey E dicevo ci siamo fatti il personaggio Con i capelli blu Gli occhiali E una maglietta rossa Mi piace tantissimo Io direi che per questo primo episodio Ci possiamo fermare così Assolutamente Perché stiamo continuando all'infinito Io so che se noi rimaniamo qua Finiamo il gioco No no ragazzi Se rimaniamo qua Vi facciamo un video di 5 ore Io ve lo assicuro E non penso che nessuno voglia un video di 5 ore Non voglio dirlo prima del dovuto Ma a me sembra più carino di YouTuber's Life Perché mi piace di più l'idea che ha Ovvero di proprio puntare a dare e dare la casa A cambiare video A fare video A potenziarsi per cose più particolari Insomma mi sta conquistando Mi sta cominciando parecchio Io esatto Non vorrei esagerare Ma mi ha totalmente conquistato Fin dei primi minuti di gioco Perché lo trovo davvero carino Poi adoro che abbia una personalizzazione così ampia Sia del personaggio Sia della stanza Anche perché così diciamo Non ti limiti solo a giocare Solo a fare video Come negli altri simulatori di YouTube Ma diciamo che ci puoi mettere molto molto del tuo Comunque ci tenevo anche a dire ragazzi Ok Il gioco è gratis È gratuito Non costa nulla Quindi se volete Lo potete scaricare anche voi E iniziare a farci vedere Come arredate il vostro personaggio La vostra No Arredate la stanza E personalizzate il personaggio Teoricamente credo che se voi cercherete Il nostro nome del canale Potrete sia aggiungerci agli amici Sia visitarci Noi ovviamente accetteremo tutti Quindi provate a farlo Se avete intenzione di giocare al gioco Così vediamo come funziona Comunque Vedremo se continuare la serie In base alle views I likes E i commenti Che farà questo video Speriamo tantissimo Che vi piaccia Perché noi faremo volentieri Una serie su questo giochino Anche perché è qualcosa di diverso Anche per cambiare dai Perché in questo periodo Stiamo facendo tantissimo Minecraft e Roblox E ci tenevamo tantissimo A portare un gioco un po' diverso A portare un po' di freschezza Fresh Le cingomme Le cingomme Le cingomme Non me le do questa volta Non me le dai oggi Non posso fare la pubblicità Esatto No niente Beh ragazzi Il video è uscito così Se il video è uscito Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao